Cogliendo lo spirito del catechismo della Chiesa Cattolica di Giovanni Paolo II, si stanno affrontando catechismi dedicati agli adulti, ai giovani, ai più piccoli. Non è facile da ricominciare. Cambiare città, cambiare casa, cambiare scuola, nuovi amici, nuovi professori, nuovi compagni. E invece per crescere bisogna guardare avanti senza paure, avere dei progetti e impegnarsi per realizzarli. E a proposito di grandi progetti...